Allora un buon metodo per poter aumentare le visualizzazioni è anche quello di ricercare le tendenze cioè cosa stanno cercando le persone in questo momento su youtube se noi andiamo su youtube studio appunto sul tab ricerca ci dice qualcosa di interessante cioè i termini più cercati in questo momento è cripto volute come iniziare poi ovviamente in inglese how to delete facebook account perché come cancellare l'account facebook come disattivare l'account facebook spesso sono in inglese però ci sono anche suggerimenti di video già fatti in italiano ecco qua adesso sta per cambiare tutto ci sono varie video sia in inglese che in italiano suggeriti quindi da cui prendere anche spunto qualora doveste fare un nuovo video sul vostro canale youtube quindi molto interessante la parte che ha a che fare con la ricerca tra tutte cose c'è anche esplora gli argomenti dove noi possiamo anche scrivere ad esempio un argomento che so instagram ad esempio e scrivendo la parola instagram ci suggerisce altri video altre cose da poter magari realizzare no ad esempio questo ha fatto un video due giorni fa sette instagram update change quindi spesso sono ovviamente video in inglese però ovviamente meglio ancora non è senso magari perché spesso in america ad esempio i video vengono fatti prima e però ancora in italia non ci sono quindi questo è un buon modo un buon metodo per fare dei video in italiano che prendono spunto da quelli stranieri e quindi per aumentare anche le visualizzazioni tra altre cose come vedete qui attività del pubblico recente vi da un'altra informazione utile quante persone hanno guardato video su questo argomento in questo momento pochi no questa linea azzurra è su pochi poi fino arrivare a molti quindi potete già capire se questo argomento diciamo è ricercato se se ne parla abbastanza se conviene fare video su questo argomento eccetera eccetera quindi in base a queste informazioni potete decidere se fare un video o meno quindi come dicevo molto importante il tab ricerca che trovate il suo youtube studio quindi fatene buon uso perché può dare veramente dei ottimi consigli suggerimenti per fare dei video magari virali chi lo sa che ci sono